ma sicuramente lasciamo un 2019 che ci ha dato grandi soddisfazioni perché abbiamo vinto abbiamo vinto due coppe nel giro di cinque mesi e mezzo quindi abbiamo fatto abbiamo fatto molto bene adesso bisogna riattaccare subito perché domani abbiamo una partita non semplice contro una squadra che sta bene che ha delle certezze che ha un allenatore bravo che fa giocare bene le proprie squadre sono insieme da tanto tempo ma io penso che noi il nostro pensiero deve essere quello di essere consapevoli nel senso che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi alla grande consapevoli ma nello stesso tempo umili perché le insidie sono dietro l'angolo perché veniamo da 15 giorni di pausa dove eravamo abituati a giocare ogni tre giorni quindi domani è una partita di di grande insidie contro una squadra forte e quindi bisognerà fare una partita da vera lazio e vorrò il 120 per cento di quelli che saranno in campo ma per quanto riguarda la formazione ho ho il dubbio di cataldi perché danilo ha avuto un risentimento il giorno che ci siamo ci siamo ritrovati ieri l'ho visto abbastanza bene non bene abbastanza bene soprattutto quando avevamo il possesso che ha grandissima padronanza è in un ottimo momento senza problematiche avrebbe giocato sicuramente il ragazzo stamattina alla fine della seduta mi ha detto di sentirsi bene adesso mancano ancora 20 ore alla partita cercherò di valutare insieme al ragazzo insieme allo staff medico perché insomma ha avuto un problemino però danilo ha grandissima disponibilità se no ho alternative ruolo di luiz alberto lo può fare parolo lo può fare beriscia lulic johnny all'occorrenza correa quindi mi prendo ancora questo tempo che manca la partita sapendo che dovrò capire se prendermi il rischio di danilo ma io penso penso insomma che l'autostima sia cresciuta molto nei miei nei miei giocatori c'è grandissima fiducia sono è un percorso che continua ad andare avanti che ci ha regalato serati indimenticabili come come ariad come la finale di coppa italia come l'altra supercoppa come un'altra finale dove non siamo riusciti a vincere è un percorso che va avanti adesso dobbiamo continuare abbiamo lasciato nel migliore dei modi il 2019 le statistiche dicono che che di solito la prima la prima dell'anno dell'anno nuovo va bene però le statistiche contano poco domani incontriamo un avversario che è in salute che aveva vinto a ferrara e probabilmente senza quel gol in recupero a parma sarebbe fuori dalla lotta salvezza